Venere Wine & Jets 2015 a Fossa Cese, uno spettacolo insomma il golfo di Venere e soprattutto buona musica e buon vino. Sì insomma è quello che volevamo, volevamo partire subito con un concerto sempre molto 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 bello in una location penso che è una delle migliori in Abruzzo. Abbiamo deciso di farlo a Fossa Cese, a San Giovanni in Venere perché penso che sia un biglietto da visita per chi ci viene a vedere e insomma con una buona musica da contorno. Sì in anteprima c'è stata già il 3 agosto a un trabocco pesce palombo, è stata bellissima, dove abbiamo presentato il progetto e poi martedì 11 ci sarà il concerto vero e proprio con Kelly Joyce e Nicola Di Camillo che faranno insomma la copertina su questo bellissimo concerto dove ci sarà un connubio tra la musica, la musica jazz quindi e il vino.